Non è stata una passeggiata di saluto, almeno per un'oretta? No, è chiaro, lo sappiamo, ormai non è la prima volta, le squadre vengono qua senza niente da perdere, giocano così, noi lo sappiamo, ci abbiamo messo anche un po' oggi a capirlo, il primo set siamo partiti un po' male, poi ovviamente è tutto in salita, siamo stati bravi, molto bravi a riprenderli, peccato non aver chiuso il primo set, poi molto lottato il secondo, alla fine abbiamo vinto un po' in scioltezza, tutto lì. C'era il rischio che la mente corresse un po' troppo presto la partita con Perugia? No, no, da quando siamo tornati della sosta ci siamo preparati per affrontare queste partite, che sappiamo che giochiamo ogni tre giorni, è così, bisogna affrontarle così, magari è l'inizio stato un po' più faticoso, però è difficile non ammettere che anche la testa su Perugia ci stiamo già pensando da un po', quindi è così. Grazie.